Il 22 ottobre 2022 Per questo oggi siamo qui tutti riniti Siamo riniti per un evento importante Un traguardo importante Ma di chi? Ma di Carolina? La vediamo poi entrare E su noi Carolina Su le mani, su le mani, su le mani, su le mani Su le mani, su le mani Per Carolina E vipa E vipa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.